mannaggia e disdoro purtroppo per ragioni tecniche ho dovuto rinviare a dopodomani il video che sarebbe dovuto uscire oggi ma naturalmente poco male anzi volendo usare un altro proverbio non tutto il male vien per nuocere perché ho pensato di infilarci a questo punto alla ketichella il video che stai per vedere che volevo realizzare da tantissimo tempo ma non riuscivo mai ad infilare in scaletta di che cosa stiamo per parlare di tre funzionalità che secondo me sono importantissime e potentissime insite in quasi tutte le versioni di windows e sicuramente in windows 10 e windows 11 si tratta di funzionalità che fanno già parte del sistema operativo ma che come al solito per motivi imperscrutabili microsoft vorrebbe tenere tutte quante per sé e allora non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere come sbloccare senza usare alcun programma esterno queste importantissime funzionalità ti senti pronto iniziamo come detto in apertura per effettuare queste modifiche non avremo bisogno assolutamente di nessun programma esterno tutto quello che ci dobbiamo procurare invece sono tre semplicissimi file uno di testo e due chiavi di registro che andranno a passare al nostro computer le informazioni per andare a potenziarlo come sempre andare a procurarci il nostro file sarà davvero semplicissimo tutto quello che dobbiamo fare è andare ad aprire il nostro browser e nel motore di ricerca andare a digitare gentiluomo digitale effettuiamo la nostra ricerca e il primo risultato sarà quello che ci interesserà e cioè quello relativo al dominio www.gentiluomodigitale.it facciamo clic per andare ad aprire il sito e una volta aperto portiamoci su questa sezione in alto che si chiama downloads nella pagina che si aprirà scenderemo un pochino più in basso fino ad individuare questo file qui che ho chiamato fantasiosamente super god mode dovremo cliccare sul grosso pulsante azzurro file download e in un picco secondo il file verrà trasferito sul nostro computer visto che le sue dimensioni sono davvero esigue e grosso infatti solo 682 bytes facciamo un clic sul file appena scaricato per andare ad aprire la cartella compressa e potremo chiudere la finestra del browser retrostante e veniamo alla prima modifica non so se hai mai fatto caso a quanto sia complicato e farraginoso ogni volta che dobbiamo spostare un file o una cartella su windows il relativo processo ebbene sì l'impressione è più o meno quella fai clic destro sul file lo vai a tagliare oppure a copiare dopo di che ti vai a cercare manualmente e senza usare l'ascensore la cartella di destinazione rifai clic destro e vai finalmente ad incollartelo ebbene per risolvere questo problema tutto ciò che dovremo fare sarà un bel doppio clic sul primo file quello che si chiama copia esposta cliccheremo quindi sul pulsante esegui per consentire l'aggiunta di questa chiave di registro e quindi cliccheremo su sì per consentire alla modifica nuovamente verremo informati che questa modifica verrà aggiunta al nostro registro di sistema cosa che potremo tranquillamente confermare cliccando per l'ultima volta sul pulsante sì ed ecco che ci viene confermato che le chiavi ed i valori sono stati aggiunti ma che cosa è cambiato a questo punto lo vediamo subito clicchiamo su ok per chiudere questo messaggio e proviamo a fare clic destro su una qualsiasi cartella oppure su un qualsiasi file una volta fatto se hai windows 11 dovrai scegliere la voce mostra altre opzioni cosa che naturalmente non sarà necessaria su windows 10 e vedremo che saranno comparse due nuove voci nel nostro menu contestuale che si chiamano copia nella cartella esposta nella cartella se ad esempio vorremmo copiare infatti questa cartella all'interno di un'altra cartella cliccandoci su ci verrà proposta una scelta e potremo selezionare la cartella in cui vorremmo copiarla e cliccare sul pulsante copia o sposta a seconda dei casi tutto qui e veniamo alla seconda proposta che ho per te quest'oggi a me personalmente da quando hanno rimosso i secondi dall'orologio di windows da molto fastidio infatti trovo estremamente impreciso lavorare con un orologio così approssimativo ebbene non hai più voglia di fare ad occhio quello che ti suggerisco di fare è nuovamente un doppio clic sulla voce secondi questa più in basso dove verremo invitati a ripercorrere esattamente la stessa trafila che abbiamo fatto col file di registro precedente e quindi cliccheremo su esegui accetteremo con sì che vengano apportate modifiche al nostro sistema ed infine nuovamente su sì per confermare le modifiche al registro clicchiamo su ok e vedremo che finalmente sono comparsi i secondi in basso a destra sul nostro orologio ti prego di non fare caso alle ore antelucane in cui registro i miei video e veniamo alla terza voce si tratta del famosissimo god mode che probabilmente già conoscerai ma che mi sono accorto che in realtà a molti non è nota come modifica di windows anche se è abbastanza vecchia in che cosa consiste consiste in una semplicissima cartella che contiene a portata d'occhio e soprattutto di mano tutte quante le impostazioni più importanti del nostro computer e che può essere posizionata facilmente ovunque vogliamo in genere sul nostro desktop per andare a crearla tutto ciò che dobbiamo fare è creare una nuova cartella facendo clic con il pulsante destro in un qualsiasi punto vuoto del desktop o della cartella in cui vorremmo andare a crearla scegliere la voce nuovo e selezionare cartella a questo punto andremo ad aprire il terzo file quello che si chiama appunto god mode che contiene al suo interno semplicemente il nome che dovremo andare a dare a questa cartella ci basterà infatti selezionare tutto quanto il testo presente cliccare con il pulsante destro del mouse e scegliere la voce copia e successivamente andare a chiudere il file stesso andremo quindi nel nome della cartella cliccheremo nuovamente con il pulsante destro e sceglieremo la voce incolla confermiamo con l'invio sulla nostra tastiera e vedremo che la cartella si trasformerà per assumere questo aspetto qui se andremo ad aprirla al suo interno troveremo letteralmente una miriade di funzionalità interessantissime ed utilissime di windows che prima era molto farraginoso andare a recuperare naturalmente non ho il tempo di illustrartele tutte quante nel corso di questo video ma ti invito sicuramente ad andarle a sperimentare personalmente come vedi è bastata una piccola manciata di clic per trasformare il nostro computer e donargli dei nuovi superpoteri francamente non vedo un solo motivo al mondo per cui non dovresti immediatamente applicare sul tuo computer almeno le prime due modifiche sul god mode possiamo anche parlarne perché naturalmente c'è a chi serve e c'è a chi non serve quello che realmente mi sfugge tuttavia è perché queste prime due modifiche non siano attualmente implementate da microsoft in maniera automatica avranno le loro buone ragioni e veniamo piuttosto ai ringraziamenti del giorno che quest'oggi sono tutti per paolo trombino che si è appena abbonato al canale e a cui do a nome mio e di tutta quanta la community il benvenuto a bordo nel club dei gentiluomini digitali ma naturalmente c'è un altro ringraziamento importantissimo ed è quello destinato come sempre a te che hai guardato questo video fino in fondo facendomi compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima